Ben trovati alle TG Med Sport, ben trovato a Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca. Abbiamo parlato di tante scoperte in questi giorni di Giuseppe Iachini, al quale ovviamente vanno gli auguri non soltanto per la festa di San Giuseppe, ma anche ovviamente a tutti i papà, rosa nero e nonne. Bene, Salvatore, parliamo di scoperte, un'altra scoperta è Alan Stevanovic, e poi ti faccio parlare di numeri, numeri che sono straordinari quelli di Iachini, ma ascoltiamo l'ala destra del Palermo. Ho veramente fatto tanti ruoli, a parte da mezza ala destra, sinistra, esterno, sinistro, alto, poi basso, destro. Però sinceramente se uno mi diceva magari prima che venissi qua che sono in grado a fare questo ruolo e che sono in grado a accettare tutti quegli cambiamenti che mi sono capitati, non lo crederei. Però poi piano piano con il mister che mi ha dato una grande mano, mi ha dato consigli importanti e diciamo che è stato bravo lui a ottenere il mio massimo, a tirare fuori le cose che magari ho dentro. Prima gara abbiamo sofferto, hanno fatto un'ottima gara loro, poi le cose magari non giravano bene e adesso le ultime 3-4 partite da quando hanno cambiato il mister cose vanno bene. Sicuramente c'è lì entusiasmo, sarà una partita molto importante per loro, però anche per noi. Iachini mi ha fatto crescere tanto, Iachini ha scoperto Vasquez, Iachini è riuscito a motivare giocatori che sembravano ormai sulla via lontana da Palermo, sulla via della partenza, invece è un Iachini che poi scopriamo essere un record man autentico. Sì, i numeri sono impressionanti perché nella storia del Palermo, se preteniamo le prime 29 partite, Iachini figura addirittura al terzo posto e guarda caso, prima di lui non c'è assolutamente lo splendido, magnifico, insuperabile, supereroico, come lo vuoi chiamare, coloratissimo Palermo di Baldini e Guidolin. È vero che Guidolin sarebbe arrivato alla venticinquesima giornata e nelle prime quattro partite ne vinse solo una e poi però ne perse in tutto due, quindi insomma un grandissimo finale di stagione. Ma per dare il significato di quello che Iachini ha fatto, però ben più importante è quello che hai puntualizzato tu, cioè la possibilità, la voglia, la meticolosità con cui ha lavorato ed è riuscito a cavare da alcuni giocatori delle doti insospettabili perché Stevanovic è un giocatore completamente cambiato sotto il profilo tattico e Di Bala, non lo so, certo, improvvisamente questo qui riprende a segnare a fare assist e per quanto riguarda Vasquez è un giocatore che, non dimentichiamo, avevamo portato in tribuna perché ci restasse a vita. Andiamo su Twitter, ti faccio vedere un tweet di Cersei Cosmi che evidentemente ha capito il momento delicato del Pescara. Ringrazio i tifosi che mi hanno accolto con calore, però non abbiamo fatto ancora nulla, le partite con Palermo e Latina ci diranno tanto, quindi un Cosmi che ha grande coraggio ma allo stesso tempo sa che la partita contro il Palermo di sabato pomeriggio può essere forse il primo sgambetto della sua gestione. Per fortuna lo dice anche Yekin questo, è un leitmotiv che tutti gli allenatori intonano, per fortuna gli allenatori che vanno calmi e che predicano umiltà e concentrazione. Nel caso del Pescara ovviamente assume i contorni di una disperazione perché devono tornare ad essere protagonisti e quindi c'è un obbligo che il Palermo non ha, nel senso che il Palermo ha l'obbligo di mantenimento, cioè il Palermo ha l'obbligo di continuare a giocare bene e di correre come sta facendo con disinvoltura. Mi pare impossibile che il Palermo non ottenga per quello che ha seminato, mentre per quanto riguarda il Pescara è chiaro che è una situazione ultimativa, ma il Palermo ci è abituato perché chi gioca contro il Palermo gioca sempre la partita della vita. Grande fiducia anche a Trapani, si gioca contro il Varese venerdì in anticipo, dopo la vittoria di Latina decisa da un gol di Pirrona. Ascoltiamo proprio le parole del centrocampista di Roberto Boscaglia. Il periodo è molto lungo, c'è bisogno di giurci, bisogno di girare, di fiatare, comunque è importante farsi trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Possiamo dire che c'è stato questo calcio d'angolo, il tiro di Simone, il portiere che non trattiene la palla, c'è stata una prima conclusione di Pagliarulo, il portiere ancora una volta non trattiene, e io mi sono buttato e sono uscito a fare gol. Non era facile segnare, però è andata bene. Ormai diciamo che la salvezza è quasi dentro, manca veramente pochissimo se dobbiamo dirlo, però adesso noi affronteremo ogni partita sempre con l'intenzione di vincere e poi quello che viene fuori ci prendiamo perché alla fine non abbiamo più niente da perdere. Chi dedichi il gol? Lo voglio dedicare alla mia famiglia, quindi a mia moglie e a mia figlia. Venerdì giochiamo e quindi ci sono anche più squalificati, però quando hanno sempre fatto chi scenderà al posto di chi ha giocato oggi saprà dare il suo contributo. Situazione invece paradossale a Catania, dove il presidente Pulvirenti ha addirittura querelato alcune testate di informazione per un giornalismo diffamatorio, come l'ha definito lui. Nell'articolo in particolare si parlava di bilanci non firmati, prima da Gasparin e poi da Lomonaco o comunque viceversa. Situazione del Catania nella quale adesso remano tutti contro anche all'esterno dello spogliatoio. Una situazione delicatissima, io non voglio entrare in vicende che non conosco e poi verrà alla luce tutto, ci saranno delle spiegazioni, non è questo il motivo principale. Secondo me il presidente dovrebbe autocensurarsi, non dico querelarsi, ma autocensurarsi sicuramente perché i mali del Catania li abbiamo individuati già dall'inizio della stagione, abbiamo continuato a dire determinate cose e non sono mai state risolte. Questa squadra ha bisogno di una concentrazione, di un'unità, di una solidarietà che non riesce a trovare e se tu sei in vantaggio contro il Sassuolo e a primo, tu ti spaventi e lasci la partita nelle mani di avversari disperati e ultimi in classifica significa che qualcosa non quadra. Ed è questo sul quale deve interrogarsi il presidente al di là di quelle che possono essere altre situazioni. Andiamo su trmweb.it nella sezione sport perché arriva una buona notizia per lo sport palermitano che coinvolge tra l'altro anche i giovani perché ci sono ben quattro convocati, li vedete nella foto, andiamo nel dettaglio anche della notizia, ben quattro convocati della squadra giovanile dell'Anteria Telimar che gioca nel campionato di A2 maschile per il raduno della nazionale denominato Azzurrini. Sono quattro componenti dell'Under 15, insomma una vittoria per il settore giovanile dell'Anteria, Andrea Radicello, Riccardo lo dico, Claudio Geloso e Andrea Giliberti. Questi ovviamente i nomi e poi tutti i dettagli sul nostro sito nella sezione sport, ci sono anche gli altri approfondimenti, il Trapani con il difensore Ferri che dice che con il Varese è una gara importante, ovviamente abbiamo parlato di Pulvirenti e anche le dichiarazioni di Stevanovic. Ti ringrazio Salvatore per essere stato con noi anche oggi. Grazie a voi. Noi ci vediamo invece nelle prossime edizioni, grazie e arrivederci. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio, infoline 091-784-6193. Presenti anche su Facebook www.edilizia-piva.it